Musica Bella a tutti ragazzi e bentornati con un nuovo fantastica puntata su The Walking Dead Siamo di nuovo qui con un'altra fantastica puntata del terzo episodio Perché è un po' mio impappino, mi fermo, sono indulgente Quasi come se ci pensassino Parli con Lily ancora? No, non ancora, lo farò Lo che volevo dire è che ho pensato molto a te Grazie Penso a te anche Nella gruppa è piccola Tu è piccola Tu è un po' di piccola Ok No cazzo, volevo mettere quell'altro Porca miseria E' un po' di piccola E' un po' di piccola Buono, penso che sia per il miglior Buono Non mi chiamami piccola Ora, c'è qualcosa di più che vuoi parlare? Pensi che siamo pronti Ti senti a sicuro qui? Esatto E' un po' di piccola Buona idea Ok Beh, non mi aspettavo di dover arrivare a tanto però Forse è meglio così, meglio dirlo Non avere più segreti, ossia parlare del nostro passato alle persone E quindi Raccontare la nostra vita Cioè Che avevamo assassinato l'amante di nostra moglie Nel gioco Vabbè Sì, è lo stesso Um, un po' di piccola Ah, è veramente qualcosa E' un po' di piccola E' un po' di piccolo E' un po' di piccolo Ti piace qui? Mi piace qui Non mi piace qui Ti vuoi andare? E' dove andiamo? Non so E' un po' di piccolo Okie dokie Okie dokie Andiamo Rorando ai propri Beh E' un po' di piccolo E' un po' di piccolo Ma mi dispiace che l'ho vista un poco rattristata alla notizia E vabbè Hey U2 Doveva andare così Cosa stai facendo? Cosa stai bene. Cosa c'è un po' di spaz. Abbiamo tutti portato un ucci e non mi piace. È la forma che deve essere. Lo so, ma non mi piace. Ma non mi piace. Ma come sei, Li? Città, hai un secondo? C'è bisogna raccontare qualcosa. Si? Cosa hai? Beh, in realtà ci fa scegliere di dirla una alla volta. Che magari potremmo dirla una e non un altro. Ok. No. Bene. Ma dovresti sapere. Se dobbiamo fare numeri quando si tratta di un po' questo va a importare. Grazie Kenny lo stronzone. Kenny apprezza la tua onestà. Eh, insomma, dalla risposta sembrava quasi infastidito. Questa è la puntata delle confessioni. Sperando che ci assolvano un po' tutti. Ho già ucciso. Stavo andando in carcere mesi fa. Stiamo soft con tutti. On my way to prison three months ago. You've always looked at me with kind eyes. I wonder if you could still do that if you knew I was a convicted felon. My goodness for what? How much trouble can a teacher get into? Well, plenty. But it had nothing to do with that. It was for murder. Why? He and my wife. That's enough. Tell me what happened when you were locked in the fridge. At the dairy. Dimmi cos'è successo. Alla cella frigorifera. Ah, cazzo. Cioè, devo dire alla moglie che ha ucciso... Il padre di quello. I was given Larry CPR with Lily. Kenny came in from out of nowhere. Put a stop to it. What did he do? He smashed his head in. Fanculo, non vado proprio fiero di quello che ho appena fatto, però... Everything keeps changing. E non avremmo dovuto fare questa... Questa scelta di portare spia. Vediamo se possiamo dire qualcos'altro. Non lo so. Voi vi fidate di tutti qui. Devi metterci più impegno con Lily. A proposi delle armi... Non lo so. Voi confini tutti qui? Più di più. Voi ho ovviamente con Lily. Ma non lo so. Voi non lo so. Voi non lo so. Voi non lo so. Voi non potremmo più che noi non lo so. Non lo so. Grazie, Lee. Ma lo so. Non lo so. Non c'è dubbio. Non c'è dubbio. Non c'è dubbio. Non c'è dubbio. Vabbè, gli altri rimasti sopravvissuti mi sa anche ben pochi. Cioè, qua... Stiamo andando avanti a morte. C'è il ragazzo. Che tra l'altro... Abbiamo salvato nel secondo episodio. E che abbiamo visto pochissimo. Devo dirti una cosa. Venivi mai qua giù a me. Ecco, ok. Hey Ben, ho bisogno di dire qualcosa. Sicuramente... È riguardo la mia scelta? Sto cercando di fare un buon lavoro. Stai bene. Non ho bisogno di dire qualcosa di più. Ho bisogno di dire qualcosa di più. Cosa... Non è importante. Oh. Solo... Se senti qualcosa... Probabilmente è vero. E ora lo so. Grazie per mi confiarci, ragazzi. Io... 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 Ben, rilassi. Ok. È bello agitato. Bello... Non dimenticherò la cosa. Visto qualcosa di strano. Mi muoio qua giù a Megan. Cosa ne pensi di Lily? Che è che sottovi una femmine. Cosa... 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 Oh... Non volevo dire che era un buon lavoro. È super bello. Non lo so... Non lo so... Ma credo che era. È... Lascia stare. Adesso, Ben. Ciao. Oddio. Non volevo dire che fa schifo. No. È una merda. Ok. Ok. È rimasta solo Lily, mi sembra, con cui parlare. Giusto? Scusate. Non hai bisogno di rilasciare. Hai venuto qui per darmi la morte o per coccolarmi? Per coccolarmi. Forza perché... Are you crazy? O è lei che vuole incastrare qualcuno? For real? Who? What do you got? Yes, for real. And I don't have shit. I just know. Lily... Counts off and it's the good stuff. Antibiotics, oxy... Fuck, anything with opium in it. I see the count, and it's fine. I keep my own. That one's getting messed with. I'm a fucking mess right now, but I'm not stupid. I know what happens if I start a witch hunt. So you want me to start one? I want you to poke around. Mmm, questa cosa però mi insospettisce un po'. E se è lei che vuole incastrare Kenny? I found this tossed into the garbage. Hmm. We don't toss out equipment, we fix it. You'd only try to get rid of a flashlight if you were using it when you shouldn't. Okay, I'll poke around a little bit. Thank you. No, sinceramente non è che sia convinto o morto da questa storia. Jesus, Doc. I'm sorry. Mmm, I heard you guys talking. You need to unhear all of that. Can I help? What did I just say? You're the great detective and I can be Dick Grayson. You're Ward. That's Robin. I know who it is. You can help. Don't tell anybody. Secrecy. Yeah. Bella. Kid. What do I do? I don't know. Go look around. Let me know if you find anything weird. I'm on the case. Oh, mio Dio. Duck. È una torcia rotta. Duck aiuterà. Thank you, Duck. Va bene, ragazzi. Direi che l'episodio si può concludere qui. Lasciate un bel mi piace per questo video. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Facebook, Twitter, Instagram e descrizione. Vi saluto, ragazzi. Ci vediamo domani. Una fantastica potta bella. A tutti, ragazzi. Ciao. Ecco, non è morta in vana. Oh, porca puttana. Quindi sempre il solito stronzo, dai. Ehi.